Allora Betty pronta? Pronta, ci ha preso il cardio, abbiamo posizionato 3 gps, questo cardio che a fine giornata segnerà più di 10.000 calorie sicure. Siamo pronti, aspettiamo la barca, bella, bella giornata. Che stai facendo Gianni? Sto preparando il gps di bordo in cui ci sono questi dati, la distanza, il tempo di percorrenza, la velocità in corso e la velocità media. Valentino, l'idea era di arrivare, costeggiare fino al faro di Anzio e poi andare per Ponsa, puntare sul Ponsa. Un piccolo fuori programma quindi come inizio? Sì, c'è un po' di onda, ce l'aspettavamo, ora facciamo le correzioni che dobbiamo fare. Quindi staccare invece che ad Anzio un po' prima dalla costa, giusto? Sì, in direzione verso Ponsa fin da subito. Quindi più mare aperto? Sì, noi avremmo costeggiato fino ad Anzio che sono 40 km, poi altri 70 km per arrivare a Ponsa. Iniziamo un drift sul Ponsa. Sì, iniziamo un drift sul Ponsa. Aspetti, qualcosa da dire prima di partire? Ho dovuto lavorare andare! Sì, sono qui! Qualcosa da dire prima di partire? Beh, abbiamo fiducia. Si parte. Si parte, è arrivato il momento. Il sole ora da qualche minuto sorce e anche noi in alto. Aldo, grazie di tutto. Grazie a voi, in bocca al lupo. Ci sentiamo tutti questi giorni. Si, ci sentiamo stasera. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella, ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.